Ho mangiato i crackers e mi sto venendo l'abbiocco a posto crackers Famosissima, troppo posto bene Ma avevo Victor, ma la prima parte avevo Victor di fronte Aiuto! Aiuto! Ma Catalino com'è che corre come... Stavo guardando Joe! Cioè avremmo potuto chiudere il game e quel figlio di Sultana lì si è andato a pascolare per le siepi Ma le sette pecorelle di Agdi che mi si rivoltono contro Quindi onoriamo Darefall per resterak intenzionale No aspetta il mio è un 18, un 13 2 e 15 Io ho onorato Skarnet perchè poverino... Tutti a me fanno l'onore Certo Tutti a me fanno l'onore Ma come fanno a scapulare via? Non capisco Ma come fanno ? A scapulare via Come guarda ? Backtrack, Asphalt Ah si? Anche guarda Ma è stato finora E' bec che l'ho letto quella roba, io pensavo fosse male A me è capitolo, tene si è accorto che te la dava indietro No Cioè E' buono Si, è il mio amico di Max con me, fatelo dire Sembo Ho avuto due ulti, ma è che non sono ancora morto Io non ho la mia Dai, dai E muori c'è Non ha senso Lo bello è che continuano a non farmi giocare, capito? Proprio figlio di puttana Hai detto due ulti, mamma mia, mi sono cacato Pensavo che avesse già Dai, mi sono preso due ulti e non sono morto Dai, lascio! E che cazzo? Eppure contento, capiii? Ride We got no and game Sento una donna a parlare, chi è? Lì? Sì Cosa c'è anche mia sorella? No, lì è la madre della mia ragazza E' vero? Eppure mia sorella Eh, no, non è la madre della mia ragazza Eppure è una tizia che faceva cose tipo arcade Non stava migliorando, com'è? Beh, sta migliorando, però comunque è lenta la ripresa E quindi vuole fare il cameraman la vita? Eh, vabbè Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè Ahahahah C'è il casetto dei minion Vada, prende il mio caffè Uh, caffè è nascosto E' appena nato quello No, infatti aspetto lo zuccherino Ahahahah Perchè ha fatto avanti 10 volte per poi prenderlo? Raduniamoci tutti poi, adesso lo prendo Eh, eh, è Rodaard che c'è questo Ma... Ma perchè è bruciata? Ma che stiamo facendo? Cioè ci stiamo facendo arrastare come dei quelli Che poi è curva, Gianna, perchè se non sbaglio nella skill meteorite, sì, c'ha i tacchi, però vola Quindi non le danno passaggi Ti è morto Ma l'ultimo è di questo tipo, a che serve? Sì, vabbè, l'ultimo è di questa tipo, a che serve? Sì, vabbè Ciao Peppo Eh dai Qualcuno doveva farlo Ma digli che sta tornando Divertente così Così impara a non onorarmi Mottanello Sì No funziona Rage pack Ma che hai fatto? Ma che è a me? Sì Che ho fatto? Ti buttato in mezzo di palla di nera e poi? E poi sono saltato con la palla di nera e poi ho dato mazzata e poi sono morto una tua via Ha dato mazzata nessuno, ha dato mazzata il minion dietro Ma è vero Sì che è vero, li hai tirato nel martello Sì, piaci, si onesta Ma stai sca... I win Quanta vita c'ho Ma quanta viiiita c'ho Stop, sta farmando No, lasciano a me Peppo, sei impazzito? Fammi fare qualcosa C'è... C'ho due item proprio Posso capire che ce ne avevi tre Ah, madonna mia che danno mi fa con lo stronzo Ma quanti cazzo stanno facendo? C'è ho fatto tutta sta cacata perché ho usato l'alpha strike sul red e non ho potuto finire la kill su Z Ma che avevo lasciato il red e non mi aspettate mai Sono la leona più forte del mondo Zylvie a te piacciono gli uomini pelosi? Ehi peli uomini Oddio ma mi devo aggiungere un altro disco, ne ho tipo 45 Dai Oscar, ma che solo tu Silvi, facciamo un'altra puntata di Guardiara Stellare! Raffetto, raffetto, raffetto. Raffetto Ah come si gioca なにゃ なにゃ He's not in! Madonna mia, lo uccidi per favore, lascialo morire! Oh fucking go home. Ragazzi, se vinciamo questa, domani compro una skin da 20€ ad Oshka. Non è il tuo account? No. Non ho capito chi è chi. Io sono chi? No! Oh mio Dio. Lui è chi, io sono uo. Oh mio Dio. Dove mi hai portato? Per tutto il game. STELLARE! Veramente che mille. Tutti ho portato. STELLARE! 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 Anche mi dicono che si può urlare, lui. STELLARE! STELLARE! Attacca! STELLARE! Ma non ho capito che le mannughe urla a STELLARE o è una registrazione? C'è una cosa, è una cosa, è una cosa. No, c'è la skin. Nessuno potrebbe volontariamente fare una cosa simile. Che cosa? STELLARE! Buon Star Wars Tale a tutti. Stellare! 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 Non so quando vuoi pensate che... Ma come fa a dargli fuoco se sta piangendo? C'è il lago di Gardaland. Stellare! 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 PINKYAM! STELLARE! BASTA! RESSINA! Battest derivative Basta! Sternare! 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 Mirko! Dalla Puglia vai in Calabria a menarlo! Sternare! 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 Ma sostera ci stanno anche i flame! Ma ci sta anche il nostro flame che si sente in diretta! Ah non preoccupate, ho spostato di sotto! Sternare! E lo scrive in chat! Sternare! 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 Non lo sei l'unico. Sì, è impossibile posizionarsi, mi shottano tutti, devo stare lontanissimo e tirare... E guidare stellare. Esatto. Stellare! Aspetta che... dimissano. Stellare! Stellare! Abbiamo iniziato a perdere da quando non ho detto più stellare con convinzione. Quindi è colpa vostra. Che è una corda, mettiamo il mare dove siete più dille, povero profo! Grazie a tutti!